Un piccolo grande bando che abbiamo voluto dedicare a Nevio Meneguz che ci ha dato veramente una mano vera e operativa nello sviluppo di questo bando. Una dedica speciale a Nevio Meneguz, storico direttore del CSV che al mondo del volontariato ha dedicato il suo impegno e la sua professionalità. A lui stamattina il coordinatore dell'Assemblea di Gestione dello Spazio Ex ha dedicato la conclusione del progetto Commons per la manutenzione condivisa degli spazi comuni all'ex caserma Piave. Abbiamo voluto da una parte costruire un parco macchine condiviso che ci aiutasse, aiutasse le associazioni nella costruzione della manutenzione dello spazio. Dall'altra abbiamo costruito un progetto di formazione con tre soggetti svantaggiati segnalati dal servizio sociale. Delle tre persone formate e certificate due stanno già lavorando ed è una grande soddisfazione che le associazioni residenti a Spazio Ex hanno condiviso con i partner, tra loro il centro formazione di sedico che hanno accolto con interesse le tematiche della manutenzione e della sicurezza. 12.000 euro la somma a disposizione. La metà è servita per acquistare un motocoltivatore tagliaerba, un decespugliatore, due motoseghe e una spazzola per pulire, per rimuovere la neve, fino a 10 centimetri. La parte restante si è tradotta in reddito per le persone svantaggiate che si sono adoperate per la manutenzione. Le associazioni hanno poi aumentato la quota di cofinanziamento per acquistare e rendere operativo un defibrillatore. L'altra ricaduta in diretta di questo bando è stata che ci ha aiutato nella costruzione di quello che poi è diventato il vero modello gestionale. È stata una delle basi su cui abbiamo costruito il regolamento che oggi è in approvazione in giunta di tutta l'area. Grazie. Grazie. Grazie.